La possibilità di partire per un contratto a tempo determinato di un anno a Slau, una cittadina vicino a Londra. Sto svolgendo questo tirocinio della durata di sei mesi, grazie al quale sto entrando pienamente nel vivo, nelle dinamiche contrattuali e soprattutto che riguardano le relazioni con la grande distribuzione. Lavoro come assistente marketing per il brand Black & Decker.